Buongiorno a tutti, ci è stato chiesto di contribuire a questa iniziativa creando un video di al massimo due minuti ed è con gratitudine che abbiamo accettato. Due minuti potrebbero sembrare pochi, ma possono essere sufficienti e forse qualcosa in più. Qualcuno ha detto fai ciò che puoi con quello che hai nel luogo in cui sei. Bene, dove siamo noi ora? Siamo tutti in casa, in una regione in cui il coronavirus continua a diffondersi. E che cosa abbiamo a disposizione? Abbiamo noi stessi, con le nostre paure e le nostre debolezze certo, ma anche con la nostra forza, la nostra mente e il nostro cuore. E cosa possiamo fare qui in casa, con noi stessi a disposizione? Innanzitutto potremmo dedicare un po' di questo tempo rallentato alla considerazione di questioni esistenziali alle quali, a causa della frenesia quotidiana a cui eravamo abituati, non abbiamo dato sufficiente attenzione fino ad ora. La questione della morte, ad esempio, questa pandemia fa sì che molti di noi siano confrontati ora con questa paura. Consiglierei la lettura del libro La morte e la grande avventura di Alice Bailey o il libro Tibetano del vivere e del morire di Sogyal Rinpoche. Potrebbe darsi che questa paura possa svanire grazie a queste letture. Potrebbe sembrare poco, ma può essere sufficiente e forse anche qualcosa in più. Potremmo inoltre decidere di mettere un po' di questo tempo rallentato a disposizione degli altri al loro servizio, ad esempio pregando o meditando per i malati o per coloro che lavorano in questo periodo in ambito sanitario. Potremmo anche telefonare a una persona cara a cui abbiamo pensato spesso, ma che non abbiamo mai chiamato per mancanza di tempo. Potremmo anche ascoltare le storie degli anziani delle nostre vaglie e magari farne un libro. Potrebbero sembrare piccole cose, ma possono essere sufficienti e forse qualcosa in più. Qui dove siamo ora, con noi stessi a disposizione, facendo ognuno il meglio che può, possiamo creare qualcosa di buono per noi e per gli altri. E questo non è poco.